Docker Compose per avviare la tua infrastruttura da developer. Ciao, io sono Michele e in questo video vediamo un'introduzione a Docker Compose e come lo puoi utilizzare per avviare rapidamente il tuo ambiente di sviluppo, la tua infrastruttura, uguale per tutto il team e senza errori. Docker Compose è una feature di Docker che ti permette di creare un file di questo tipo, un file YAML che tra poco vediamo e commentiamo, che in un punto solo permette di dichiarare tutti i servizi o tutti i componenti della tua infrastruttura, dei componenti di cui hai bisogno, per far partire, per tenere in piedi diciamo il tuo sistema. In questo caso potrebbe essere utilizzato per avviare un ambiente di sviluppo dove per esempio abbiamo bisogno di un SQL Server, un Rabbit e un Redis per la nostra applicazione. Docker Compose non è adatto a scopi di produzione ma è adatto a scopi di sviluppo e test. Quindi basta con le parole e andiamo a vedere e commentare come è impostato tutto questo file. Se da questo video imparerai qualcosa o ti piacerà mi raccomando metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato su nuovi video in uscita. Vediamo come impostare un file Docker Compose per andare a creare quello che è nell'ambiente di sviluppo locale del developer un ambiente più simile possibile a quello della produzione, utilizzando quindi Docker Compose per creare e avviare quelli che sono magari i pezzi della nostra infrastruttura, quindi magari un MySQL o un SQL Server o un sistema di code come Rabbit and Queue o un sistema di cache come Redis Cache e così via. Quello che andiamo a fare in questo esempio è andiamo a creare un mini ambiente di sviluppo con un SQL Server come base dati e un Redis Cache per l'utilizzo della cache. Qui non faremo operazioni particolari su SQL Server o su Redis, saranno semplicemente aperte e chiuse delle connessioni per test perché l'obiettivo di questo video è di mostrare come può essere utilizzato Docker Compose per i developer, per avere tutti lo stesso ambiente e tutti la stessa configurazione senza possibilità di sbagliare. Allora, qui ho creato una cartella dentro Visual Studio Code, una nuova cartella dove ho predisposto un po' di file che andiamo a vedere e a commentare insieme. Tutti i sorgenti che sono stati utilizzati qui sono disponibili sul GitHub al link che metto in descrizione. Allora, parto da quello che è il file Docker Compose, quindi questa qui è all'ultima specifica, è la versione 3.9, però i concetti di base sono rimasti invariati nel tempo, al netto di magari di qualche minima variazione di sintassi. Che cosa succede? A parte la versione, appunto, abbiamo sotto i vari servizi che noi andiamo a dichiarare perché nel gergo di Docker Compose, quello che noi facciamo partire o esponiamo nel nostro mini cluster, vengono cosiddetti servizi e li andiamo a definire. Allora, noi andiamo a definire un SQL Server, qui, andiamo a definire un Rabbit e andiamo a definire un Redis. Vediamo un po' come abbiamo fatto. Allora, per la sezione SQL Server vado a specificare l'immagine. In questo caso vado a dire, prendo l'ultimo 2022, gli do un nome con cui posso lost name e quindi è il nome con cui sarà indirizzabile, diciamo, nella rete interna del Docker Compose questo container. Avrà nome SQL Server. Le impostazioni di restart, quindi questo container verrà continuamente riavviato a meno che non sia esplicitamente stoppato da noi e andiamo a persistere i dati, perché se no sarebbe un... ogni volta magari che riaviamo il PC o che fermiamo andremo a perdere tutto, quindi vado ad utilizzare i volumi di Docker per andare a persistere il dato tra una sessione e l'altra. Ho dichiarato un volume che l'ho chiamato SQL Data e lo mappo sulla cartella, qua basta vedere le specifiche dell'immagine, var opt ms SQL, che è dove SQL Server si aspetta di trovare dei dati o è la directory che lui utilizzerà nel caso al primo avvio debba crearsi tutta la struttura per SQL Server. Esprimiamo le porte, 14.33 del container, sulla 14.33 del nostro PC, tutto standard per quanto riguarda SQL Server. Poi, sempre da specifiche, vado ad accettare le condizioni di utilizzo e qui vado ad impostare la password SA per connettermi al database, quindi utilizzerò l'utente systemadmin, va bene in questo contesto perché è una macchina da developer, un ambiente da developer, ovviamente sconsigliatissimo in ambienti di produzione, e vado ad impostare la password con questa sintassi dollaro graffa, vado a leggere le variabili d'ambiente, quindi ho una variabile d'ambiente nel mio PC che si chiama SQL Container SA Password, così non la metto in chiaro in un repository. e mi proteggo, diciamo, il mio segreto. Time zone va bene, Europa, vado ad impostare la time zone Italia, la collection, nel caso volessi specificarla, invece che usare configurazioni di default, metto la latin 1 general, e dico che è la rete, quindi qui vado ad impostare il nome della rete che a questo container si aggancerà, e gli dico 2 GB. Stesse configurazioni, più o meno, cambiano solo per gli significati, qui di image, just name, eccetera, sono gli stessi, vado però ad utilizzare ovviamente valori diversi, per quello che è Rabbit Thank You, utilizzo l'ultima versione della sua immagine, gli do un nome, anche qui la logica di restart, unless stopped, cioè continuerà ad essere riavviata finché non lo interrompo, gli mappo un volume, e spongo la porta di utilizzo e la porta di management, anche qui tutto da specifiche di Rabbit Thank You. La stessa cosa, gli stessi ragionamenti per quanto riguarda Redis, senza andare a commentare tutti i valori, insomma tutte le configurazioni standard, e poi vado a vedere qui cosa ho fatto con i volumi, quindi qui a me piace andare in maniera completamente esplicita, senza utilizzare valori di default, impliciti dove è possibile, per maggiore chiarezza, per sapere con trasparenza quello che sta succedendo, quindi i volumi li ho dichiarati qui, c'è anche un po' di incoerenza sui nomi, ma poco importa, e vado a dire driver local, quindi che sono file che verranno usati nel mio, utilizzerà il driver per mappare questi volumi nel mio PC, nel mio disco locale, e la rete è la stessa cosa, vado ad utilizzare, e vado a dare i nomi, che poi ho utilizzato sopra, e vado ad utilizzare il driver bridge, in questo caso, avendo creato tre reti diverse, i vari container non possono comunicare tra loro, i container che appantengono alla stessa rete di tipo bridge, possono comunicare tra loro, in questo caso, ho voluto simulare un ambiente isolato, dove il container di SQL non può vedere gli altri, e viceversa, a questo punto, quello che abbiamo realizzato, è più o meno una cosa di questo tipo, siamo all'interno, diciamo, dell'engine docker, ok, e abbiamo tre container isolati, che girano, uno, due, tre, ognuno nella propria rete, abbiamo il SQL server, abbiamo il rabbit and queue, abbiamo il redis cache, che non si vedono tra di loro, ma io potrò accedere, ok, tramite questo più grande, così è il mio pc, per così dire, pc host, che ospita il docker engine, e tutto, io qui voglio costruire un'applicazione, farò una piccola app, punto exe, farò un punto exe, che va a connettersi, a aprire le connessioni, con ciascuno di questi, semplicemente un'apertura di connessione, e fine, giusto per dimostrare, la connettività, e la possibilità, di crearmi appunto, la mia infrastruttura standard, tra tutti i developer, in ambienti anche, più o meno complessi, ecco, questa è la mia applicazione C Sharp, sono 30 riga commenti incluse, vado ad utilizzare, librerie diffusissime, per connettermi ai vari, SQL, Redis, e rabbit, creo le stringhe, di connessione, vediamo, ingrandisco un po', il test, ok, creo le stringhe, di connessione, questa per SQL, andando a leggere, dalla stessa variabile, d'ambiente, che ho messo, di qua, nella creazione, del locker compose, apro una connessione, a SQL, apro una connessione, a Redis, su localhost, apro una connessione, a rabbit, su localhost, va bene, allora, come funziona? Io vado qui sul file, docker compose, faccio, io ho il plugin installato, che lo consiglio, l'estensione, per docker, di visual studio code, che mi permette di fare, clic destro, invece che scrivere, docker compose app, allora, a questo punto, vado anche a vedere qui, qui vediamo, qui sotto vediamo i log, vengono creati i container, vediamo che questi container, sono raggruppati, dal mio, diciamo, docker compose, è un po' un deployment, leggero, di kubernetes, e quello che succede, è che, poi vedo anche, la dichiarazione, dei volumi, e vedo anche, le reti, che ho dichiarato, io sono queste tre reti, di tipo bridge, qui, tutto, la mia infrastruttura, è operativa, quindi vado, nella mia applicazione, faccio F5, ok, e, vediamo i, i passaggi, qui, faccio andare via, il breakpoint, e, ovviamente, non si connette, più nulla, va bene, a questo punto, posso distruggere, l'ambiente, quindi, docker compose stop, ok, i container si fermano, faccio, restart, compose start, e ripartono, e, ho di nuovo, il mio ambiente operativo, questo, può essere comodissimo, anche perché, se metto, docker alla via automatico, il mio pc, mi ritrovo, l'ambiente, di sviluppo, pronto, senza fare, alcun clic, ho tutta la mia infrastruttura, pronta, e posso cominciare, a sviluppare, per oggi, con docker compose, ci fermiamo qui, intanto, ti ringrazio, per essere stato con me, in questo video, e alla prossima.